buona giornata amici e ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è giovedì 18 agosto 2022 iniziamo la giornata con l'almanacco del giorno poi leggeremo i giornali il Corriere degli Attico e il resto del Carlino per quanto riguarda le notizie di carattere locale oggi è Sant'Elena Sant'Elena è imperatrice la madre dell'imperatore Costantino si distinse per il suo zelo dopo che anche il suo figlio e suo suo figlio appunto si era convertito al cristianesimo era andata direttamente in Palestina aveva distrutto il Tempio di Venere che era stato eretto sul luogo del Golgotha sul luogo del Calvario dove Gesù era stato crocifisso e aveva ritrovato anche il Santo Sepolcro compresa la croce nella quale Gesù era stato appunto crocifisso croce che poi era stata portata a Roma dove esiste una chiesa intitolata e dove abbiamo anche un grande punto di interesse vicino a San Giovanni in Laterano ritrovò il Santo Sepolcro e il legno della croce dunque Sant'Elena è imperatrice visse ovviamente 300 anni dopo la morte di Gesù vediamo le previsioni del tempo le previsioni indicano qualche nuvoletta che si estende sulla regione Marche qualche anche traccia di pioggia da prendere però con cautela perché insomma le previsioni la indicano e poi magari non si verifica una nuvolosità irregolare in transito sulla nostra regione anche in Abruzzo con qualche fenomeno diurno in Appennino e localmente anche nelle Marche settentrionali sulle coste il vento spira da una direzione media da sud est così come nell'entroterra le temperature se girano dai 23 ai 36 gradi il mare è mosso perché appunto il vento accarezza diciamo la superficie sollevando le onde quindi attenzione anche a fare il bagno il sole questa mattina è sorto alle 6 e 15 e tramonterà alle 20 e 13 bene ci ho detto apriamo subito il giornale oggi sul Corriere Adriatico vediamo la pagina di Fano e vediamo che si parla indirettamente dell'Isippo perché indirettamente perché si parla in realtà del sequestro che è stato fatto al Getty Museo di un gruppo di un gruppo archeologico di un gruppo statuario ritrovato a Taranto poi emigrato secondo il commercio clandestino ritraente Orfeo fiancheggiato da due sirene ebbene un giudice fanese fa parte della squadra della procura di New York che si occupa appunto della individuazione delle opere archeologiche delle opere artistiche trafugate si tratta di Giuditta Giardini che appunto fa parte insieme al giudice Matthew Bogdanus della procura distrettuale di New York una unità di cui fanno parte 14 persone e quindi la nostra professionista fanese che cosa c'entra il gruppo di Orfeo con l'Isippo ebbene il gruppo di New York ha intimato al Getty Museo di restituire il gruppo dell'Orfeo non è stata una restituzione spontanea è stato un provvedimento fiscale un provvedimento giudiziario e quindi il Getty ha dovuto obbligatoriamente eseguirlo per quanto riguarda invece il Isippo purtroppo non c'è alcuna competenza della procura distrettuale di New York in quanto la nostra opera d'arte non è passata per la sua competenza territoriale e quindi bisognerà aspettare la sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo a cui il Getty ha fatto ricorso contro la sentenza rilasciata dal giudice di Pesaro comunque un settore un fatto che viene sempre seguito con grande attenzione anche dalla nostra avvocatura l'avvocatura dello Stato l'avvocatura dello Stato sta preparando appunto delle memorie da presentare alla Corte dei diritti dell'uomo appunto europea e veniamo alle altre notizie si parla di monopattini in questi giorni perché la città di Fano è stata dotata di questo servizio ma non mancano ovviamente le polemiche monopattini test di 30 giorni in città già schierati 200 mezzi si tratta di una sperimentazione a costo zero per il comune per capire il gradimento dei fanesi il recupero è stato affidato a Urbico una appunto associazione che poi si occupa di riprendere i monopattini quando questi vengono lasciati da chi li ha presi in quel momento ebbene è un servizio in più che ha destato qualche perplessità poi lo vedremo anche per quanto riguarda le dichiarazioni fatte dai partiti di opposizione e oggi è una giornata importante per il Paese dei Balocchi il Paese dei Balocchi inizia la sua quattro giorni che si protrarrà fino alla fine della settimana si apre alle 18 una magica festa dedicata ai bambini ma con temi e argomenti che interesseranno molto molto anche gli adulti tante sono le attività in calendario a partire appunto dalle investiture a sindaco quest'anno Luca Barbarossa un personaggio noto un personaggio che farà valere la sua tematica della sua canzone per quanto riguarda i temi che riguardano i bambini e si comincia alle 18 dicevo con i laboratori ludico creativi allestiti in collaborazione con Apito Marche ed il centro Diego Fabri ma l'attenzione è appunto calamitata con l'investitura a sindaco a conferirgli la fascia sarà Tony Bungaro che ha incarnato il ruolo l'anno scorso quindi sindaco che cessa e sindaco che inizia subito operativo anche il ludobus dei Balocchi dove una squadra di operatori accoglierà i piccoli e le famiglie intrattenendoli con una serie veramente variegata di giochi. Poi ci sono anche le due novità due novità della manifestazione la prima si identifica con lo spazio Slurp dedicato all'educazione alimentare e scandito dall'evidente richiamo al linguaggio dei fumetti Slurp. L'altra è il parco di Mangiafuoco dove l'associazione vivamente riproporrà i giochi di un tempo quei giochi semplici che si facevano magari con dei legni oppure con tanta creatività con tanta inventiva ma facevano ugualmente divertire i bambini e poi si parla in questo articolo di Spalla io non vi ho fatto vedere l'articolo del Mangiafuoco scusate l'articolo dei Bellocchi scusate ecco qui vediamo una bella fotografia della balena dei paesi dei Bellocchi che da tanto tempo costituisce una delle attrattive centrali di questa festa di questa festa che si svolge in un posto emblematico la piazza bambini del mondo e mai nessuna intitolazione è stata così appropriata come questo centro vitale di Bellocchi piazza bambini del mondo dove si svolge il paese dei Bellocchi dicevo che c'è anche un articolo di Spalla oggi sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico che si occupa della fiera di San Bartolomeo la fiera di San Bartolomeo ormai è prossima si svolgerà dal 24 al 26 agosto prossimo ebbene ci sono dei cambiamenti ci sono dei cambiamenti perché la fiera è in procinto di essere trasferita non lo sarà quest'anno ma lo sarà il prossimo anno dalla zona della Sassonia alla zona del Lido e c'è tutto un problema di assegnazione dei posti di rispetto dei contratti insomma la cosa è piuttosto complicata comunque questa volta saranno eliminati alcuni parcheggi sono state cancellate 27 postazioni includendo nel conto le 12 di Viale Leghieri le 6 di Viale Colombo e nel tratto che separa Viale Leghieri da Via Caduti del Mare in più le 9 di Via Bramante ci sono insomma dei cambiamenti non ritroverete più i soliti fornitori magari dai quali vi sarete serviti negli anni scorsi invece quest'anno le cose cambieranno un po' ma insomma la fiera è sempre la fiera giriamo pagina e passiamo a Fossombrone a Fossombrone c'è un giro di vite per quanto riguarda i controlli sulle cesane polizia locale forestale cesane sorvegliate speciali organizzati controlli eccezionali contro i bivacchi e i fuochi abbandonati fuochi molto molto pericolosi per quanto riguarda gli incendi a tutela delle cesane e come un'azione preventiva nei confronti di qualsivoglia malintenzionato o chi si comporta in un bosco di maniale in maniera scorretta c'è un controllo ancora più pressante da parte dei carabinieri e della polizia locale e anche quella della forestale il provvedimento viene illustrato in questo articolo dal vice sindaco di Fossombrone Michele Chiarabilli invece a San Lorenzo in campo il sindaco dell'Onti illustra gli investimenti che l'amministrazione comunale si appresta a fare nel territorio cantieri per 4 milioni e mezzo partiamo dalla scuola primaria e sono tanti gli investimenti che vengono fatte nel territorio di San Lorenzo nel settore delle scuole dunque inizieranno i lavori di adeguamento sismico della scuola primaria un intervento per un milione e 650 mila euro e poi ci sarà l'adeguamento dei locali dell'ex istituto Volta per il trasferimento temporaneo delle attività didattiche mentre si fanno i lavori nell'altra scuola poi c'è l'installazione della ventilazione meccanica controllata nella scuola dell'infanzia e nella secondaria di primo grado saranno poi ripresi i lavori di riqualificazione delle scuola media in piazza Verdi e in partenza la riqualificazione del centro storico per 225 mila euro i lavori interesseranno anche un percorso cicloturistico e la realizzazione di aree di sosta quindi in generale tutti questi investimenti tutti questi lavori interesseranno scuole municipio cimiteri palestra teatro pista polivalente oltre mille punti luce verranno sostituiti con quelli a led per un risparmio e per una migliore efficienza appunto della illuminazione vediamo la pagina di senigallia purtroppo qui vediamo un dramma una tragedia il figlio si lancia lui vuole salvarlo muoiono entrambi travolti dal treno in corsa tragedia ieri sera per due turisti umbri a senigallia soccorsi inutili traffico ferroviario in tilt padre e figlio due turisti della provincia di perugia in vacanza a senigallia sono stati travolti ieri sera da un treno merci in transito la tragedia si è consumata verso le 21 all'altezza di via goldoni nella zona nord della città da una prima ricostruzione da parte della polfer che ha ascoltato alcuni testimoni sembra che il padre stesse seguendo il figlio salito sulle rotaie proprio mentre il convoglio si stava avvicinando il padre aveva compiuto un disperato tentativo di salvare il figlio ma è rimasto anche lui coinvolto e purtroppo entrambi sono deceduti nell'impatto nello scontro veramente una tragedia apriamo il giornale nella cronaca regionale dove imperano le notizie di politica per quanto riguarda le candidature ebbene ora la morani ci ripensa accetto di candidarmi ma il pd rifiuta e tardi il suo posto è stato già assegnato la deputata uscente ha comunicato ieri al partito la sua disponibilità a scendere in campo dopo averla negata nel frattempo il collegio per il quale era stata indicata si tratta dell'uninominale di pesaro alla camera era già stato assegnato agli alleati lì correrà il coordinatore nazionale di più europa masini e quindi la deputata purtroppo non avrà alcuna chance di essere eletta secondo le previsioni appunto della stampa di oggi vediamo quali sono i candidati del partito democratico per quanto riguarda l'uninominale alla camera per quanto riguarda pesaro abbiamo detto giordano masini di più europa ad ancona correrà antonio mastro vincenzo a macerata fulvio esposito a fermo e ad ascoli meri marziali per quanto riguarda la proporzionale della camera irene manzi in testa augusto kurti terza alessia morani quindi non avrà si dice alcuna possibilità è addirittura quarto antonio gitto uninominale senato per marche nord corre marco bentivogli a marche su di mirella gattari il proporzionale per quanto riguarda il senato vediamo in testa alberto losacco seguito da luisa rizzitelli e terzo daniele vimini anche lui con poche speranze io kamikaze nel collegio mai partito come favorito parla bentivogli del partito democratico e la battaglia in salita per il senato nell'uninominale nord mentre per quanto riguarda fratelli d'italia vediamo qui questo articolo di spalla giorgia meloni apre ad ancona la campagna elettorale sarà martedì prossimo nelle marche con il presidente acquaroli giorgia meloni aprirà la campagna elettorale nazionale in vista delle politiche del 25 settembre ad ancona una grande soddisfazione per la nostra regione e la federazione regionale di fratelli d'italia ha ha così commentato il presidente della regione marche francesco acquaroli che appartiene ovviamente allo stesso partito viva italia e azione ci siamo quasi già pronti urbinati talè e fagioli sono prossime le candidature di italia viva e azione e partiti di renzi e di calenda i quali hanno deciso la spartizione per camera e senato tra i candidati anche l'avvocato elena fabbri e il con mariano calamita vediamo qui i papabili in questa serie di fotografie vediamo un volto noto nel nostro territorio federico tale che è passato a italia viva comunque fabio urbinati coordinatore del partito tommaso fagioli coordinatore di azione e poi mariano calamita sempre di azione ed ma fabbri di azione sono questi appunto i candidati che verranno poi così definiti consacrati da entrambi i partiti che formano una coalizione del terzo polo basta separarsi spensiamo al voto finiremo come i polli di renzo è un commento condivisibile della mancinelli valeria mancinelli sindaca di ancona che guarda con un po di preoccupazione all'interno del suo partito il sistema è inceppato manca la classe dirigente ha dichiarato i nodi non sono nati ieri hanno una lunga storia insomma per quanto riguarda quello che sta accadendo all'interno del partito democratico suicidio assistito c'è il via libera anche per antonio si tratta di un altro caso appunto un altro caso drammatico di una persona che vuol farla finita con la vita per il dramma che sta vivendo e veniamo anche alla pandemia il virus è in ritirata nessuna visaglia di nuove varianti per fortuna i contagi sono scesi al del 26 per cento nell'ultima settimana nell'ultima scusate i contagi sono scesi il 26 per cento nell'ultima settimana ieri c'è stato un piccolo rimbalzino un tecnico di nuovi casi il direttore di virologia stefano menzo l'epidemia è in lenta graduale discesa dati confortanti dunque per quanto riguarda la pandemia da covid bisogna sempre stare attenti anche se le quarti dosi somministrate nelle marche su una platea di 383 mila over 60 oltre a 50 mila soggetti fragili sono ancora un dato molto basso rispetto appunto alla platea di chi ne avrebbe bisogno due pagine intere dedicate al san benedetto a questo grande complesso pesarese in via di ristrutturazione era l'ex manicomio il tempo stringe in titola il giornale sull'altra pagina una pagina che si collega vedete qui insomma le due pagine insieme e in queste fotografie si evidenzia un po il degrado con cui versa la struttura una struttura storica una struttura importante pensate che il barchetto di girolamo genga ospitò bernardo tasso nel 1557 ma è con lui c'era anche il suo figlio il poeta torquato torquato tasso che nell'estate del 1578 era a pesaro ebbene nel 1581 quindi pochissimi anni dopo torquato pubblicò la gerusalemme liberata quindi non è escluso che parte di questo grande romanzo di questa grande di questo grande poema fosse stata composta proprio a pesaro un esperto dovrà valutare il recupero dei dipinti a muro sono dipinti eseguiti nel 1800 comunque vediamo che il degrado veramente è molto evidente qui vedete qui la fotografia del portico e poi ancora qui una una foresta che si è insediata all'interno del complesso giriamo pagina colpi e contraccolpi tormenti del partito democratico maricela stella ancora politica sul corriere adriatico politica per quanto riguarda candidature difficili con beffa finale per un partito diviso e in sofferenza ancora sulla pagina di pesaro del corriere vediamo un lutto lulo si è addormentato per sempre dopo oltre sette anni senza più svegliarsi si tratta di massimiliano lugli 48 anni che era stato implicato in un incidente era appunto caduto dalla sella del suo scooter quando percorreva l'urbinate davanti alla pica ebbe qui un incidente non si era più ripreso era caduto in coma e per sette anni è vissuto vegetando e quindi il decesso vediamo ancora un'ultima notizia allarme in spiaggia squalo in mare ma è un enorme e innocuo pesce luna l'esemplare del peso di tre quintali è stato soccorso dalla fondazione cetacea davanti ai bagni ridolfi di pesaro sono veramente spettacolari questi grandi pesci luna che sono vivono anche nel nostro mare sulla pagina del resto delle carlino sulla pagina di fano vediamo invece l'apertura dedicata a un problema quotidiano quando si rompe il rubinetto di casa oppure la luce elettrica non funziona più occorre chiamare un idraulico o un elettricista ebbene quanto ci costa questi interventi ci costano moltissimo idraulici ed elettricisti introvabili e chi li rimedia rischia un salasso dice oggi il carlino tecnici in ferie fino a fine mese un guasto rubinetto un blackout possono essere un bel problema proprio in questi giorni per non parlare dei prezzi tra costi fissi di chiamata e ore di lavoro effettivo il conto lievita la tariffa oraria varia da 20 a 40 euro alcuni poi la modulano anche in base alla distanza quindi costa più magari di chiamare un artigiano un artigiano valente ovviamente che un professionista e poi questa è una pagina invece dedicata all'opposizione fratelli d'italia interviene sul problema della clinica privata a fano si parla ancora della clinica di chiaruccia della clin del reparto di ortopedia che doveva essere previsto in questa clinica che doveva essere affidata ai privati in realtà poi il consiglio comunale ci ha ripensato e ha detto è meglio che questi 50 posti convenzionati vengono riservati a santa croce e questo palleggio viene evidenziato appunto da fratelli d'italia tarsi e pierpaoli che costituiscono il gruppo consigliare dicono prima vogliono la clinica privata chiaruccia poi votano per i posti a santa croce sono allo sbando la maggioranza divisa su tutto si mostra unita solo per smentirsi hanno dichiarato i due esponenti della opposizione e invece in quest'altro articolo interviene la lega interviene il nuovo segretario della lega alessandro brandoni che parla dei monopattini era meglio che prima sistemassero le strade tra buche e disservizi piuttosto che mettere a disposizione questo servizio afferma appunto l'esponente della lega due pizze e due bistecche 275 euro un cliente sin furia bagarre nel locale è successo al rock way di marotta il titolare hanno scelto la qualità più costosa prezzi ben esposti in menu c'è stato un batti e ribatti una lite piuttosto vehemente nel locale quando è arrivato il conto per delle bistecche che erano state ordinate dai clienti insomma e qui ci sono le due tesi contrapposte a far valere le entrambe le ragioni di entrambi auguri ai cento di amato partigiano sempre grande festa sulle note di bella ciao ad urbino per una colonna della nostra resistenza così viene definito amato antonelli un partigiano che ha compiuto cent'anni antonelli ha riabbracciato il suo compagno d'armi marinelli costituiscono entrambi un pezzo della nostra resistenza una parte delle fondamenta su cui è stata costruita l'italia democratica e antifascista ebbene sabato il partigiano amato antonelli ha festeggiato cent'anni nella propria ferminiano e lo ha fatto assieme ad un urbinate il suo compagno di battaglia maffeo marinelli che di anni ne ha compiuti 97 insomma non sono due ragazzini e poi si parla della pala di brera la pala di brera che dovrebbe tornare a urbino incalzano perché le istituzioni intervengono su questo problema i consiglieri londei e cangini del gruppo urbino e montefeltro rilanciano l'appello sul rientro della città dell'opera un'opera importante un'opera che è stata dipinta da piero della francesca un'opera molto molto significativa per quanto riguarda la dinastia dei montefeltro vediamo appunto il duca federico il ginocchiato in armi di fronte alla madonna alle cui spalle ci sono i santi e gli angeli ma soprattutto i simboli della dinastia dei montefeltro che vengono riassunti in quell'uovo che pende dall'abside appunto della scenografia che è alle spalle del gruppo ebbene una pala che dovrebbe tornare ad urbino perché era stata dipinta per il mausoleo dei duchi appunto della città feltresca e questa era l'ultima notizia massimo foghetti vi saluta vi dà appuntamento a domani alle ore 7 mentre per le notizie del giorno vi consiglio di guardare fano tv occhio alla notizia alle ore 20 e 30 di questa sera grazie per l'ascolto a risentirci grazie a tutti grazie a tutti